Come non si vede? Si, si doveva vedere. Si vede dalla mia prospettiva, ma dovresti vederla. Si vede, devi fare il suo Alberto. Ok. Ok. Come mai manca un inglese? Perché aveva... Il bianco. Senti che parto, non è Filippo? E' l'ordine. E' l'ordine. E' l'ordine. E' l'ordine. E' il 5. Sì. E dai. vento 28 nodi è ora quindi occhio con il tempo della righina rossa che che frega sono lì su ma deja vu che prova a farla quindi è perfetto perché con la roba bambina non c'è l'interwardio a chi danno la cipri che è il corso di amore stoppalo eh buona buona alberto a me mi ha stoppato deja vu occhio eh sì sì alberto vai 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 e vediamo subito se riusciamo mamma mia vai tu filippo no vai mi do fastidio filippo no 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 ragazzi meno virate possibili continuate così anche perché qui siamo in un buono clamoroso eh dritti dritti eh semmai c'è luca con alberto occhio dovrei passarmi davanti luca abbondante vicini no ma puoi rifilare non poteva rifilare filippo no 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 tranquilli lo copro io questo non poteva rifilare filippo siamo perfetti albi io vi raccomando questo lo sto massacrando eh va un nodo meno di noi perfetto vi davanti filippo facciamo come prima io vi rompo prima albi io vado bello lungo che vado potrò anche fare qua io stramberi subito eh sì 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 certo sei boi alber mazza che stretta che l'ha fatta quella bo eh lo vedi anche la di prima ci ho cagato ad osso ma mia possiamo prendere più calma adesso relax prendiamo le larghe tranquille è sempre comitato no senza coprirci perché qui ricordati che copri dietro eh ottimo io andrei dritto e poi aspetterei il destro ok cosa dite è un po' più alta la bo di là la bo questa qui del comitato io vi do subito solo per togliermi da te vai 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 e di nuovo quando questo mi segue buono invece l'abbiamo così tranquillo e siamo in posto il problema è solo Filippo che non deve arrivare l'ultimo no io non per ora non sento il rifiuto di nessuno né di déjà vu né del primo lì non so chi cacchio sia quel sinistro laggiù non si viene ma occhio che si ferma eh va beh minchia sopra il destro sto sotto vado via subito io vai vai sono tranquillo ragazzi voi andate voi andate io me lo tengo dietro questo mi trovo a passarlo anche magari déjà vu forse no non è più il becco forse si dai sì si occhio albi passiamo dai 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 tanto lui si infermerà probabilmente no non si ferma io strambo è vero qua guarda attenzione perché lui ci farà il giochino se è uno furbo no lui crede che cosa faccio aspetto Luca ma ci siamo ragazzi Alberto vai vai a tagliare se l'ha presa anche Luca però eh eh vabbè vai 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 a tagliare vai a tagliare taglia 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 non puoi fare nient'altro taglia perso quindi ho perso ma cosa mi dici taglia porco eh cosa potevi fare altro è tornare indietro tornare indietro ma cosa facevi non potevi dovete prendere quel cazzo di prima ma come hai fatto a farti prendervi da déjà vu quando ti aprite me l'ha data me l'ha data io l'ho data una e poi l'ho presa da déjà vu e niente raga raga io mi sono mutato però con gli f50 quando ce n'è uno in mezzo anche tra il primo e il terzo cioè se state primo e terzo è meglio avere il primo e il secondo perché la trappola con gli f50 è una cazzata da fare quante eravate scusatemi c'è uno davanti 2 e 3 e 5 eri tu ma era ovvio che ti prende perché sono due no ma non c'è mai stato un primo nostro quindi c'era 2 e 3 basta ok dai tranquillo anche di nuovo